Debutto sfortunato Chekhov Una bella sera, il padrone entrò nella stanzetta dalla tappezzeria sudicia, e stropicciandosi le mani disse — Su via! Voleva dire ancora qualcosa, ma non la disse e uscì. Sietta che durante le lezioni aveva imparato a conoscere perfettamente l'espressione del suo viso e le sue intonazioni, e indovinò che era agitato, impensierito e, a quanto pareva, adirato. Dopo un po', egli tornò e disse — Oggi prendo con me, zietta, e Fiodor Timofievich. Tu, zietta, oggi prenderai il posto del defunto Ivan Ivanic nella piramide d'Egitto. Sa il diavolo cosa accadrà. Non siamo pronti. La preparazione non è ancora a punto. Abbiamo fatto troppo poche prove. — Ci copriremo di vergogna. Faremo fiasco. Poi uscì di nuovo, e dopo un minuto rientrò, in pelliccia e cilindro. Avvicinatosi al gatto, lo prese per le zampe anteriori, lo sollevò in una scosè nel petto, sotto la pelliccia. La cosa lasciò Fiodor Timofievich del tutto indifferente. Non si degnò nemmeno di aprire gli occhi. Per lui, evidentemente, era assolutamente uguale starsene estraiato o essere sollevato per le zampe, rotolarsi sul materassino o starsene accucciato sul petto del padrone, sotto la pelliccia. — Andiamo, zietta! disse il padrone. Senza capire nulla, dimenticando la coda, zietta lo seguì. Un minuto dopo era già seduta in una slitta, ai piedi del padrone, e lo sentiva borbottare mentre rabbrividiva per il freddo e per l'agitazione. — Ci copriremo di vergogna. Faremo fiasco. La slitta si fermò vicino ad una grande, strana casa, simile a una zuppiera rovesciata. La lunga entrata di questa casa, con tre grandi porte a vetri, era rischiarata da una dozzina di lampade lucenti. Le porte si aprivano con rumore e, come bocche, inghiottivano la gente che vi si affollava davanti. C'erano molte persone. Arrivavano di corsa anche dei cavalli, ma di cani neanche l'ombra. Il padrone prese zietta fra le braccia e se lo mise nel petto, sotto la pelliccia, lì dove già si trovava Fiodor Timofejic. Era buio lì sotto e mancava l'aria, però faceva un bel calduccio. Per un istante brillarono due torbide fiammelle verdi. Era il gatto che aveva aperto gli occhi, disturbato dalle zampe fredde e dure della vicina. Zietta gli leccò un orecchio e, cercando una posizione un po' più comoda, prese ad agitarsi inquieta, calpestandolo con le sue zampe fredde, finché a un certo punto, per caso, cacciò la testa fuori dalla pelliccia. Ma subito fece un ringhio rabbioso e si rituffò sotto la pelliccia. Era sembrato di vedere una stanza enorme, ma all'illuminata, piena di mostri. Dietro i tramezzi e le grate, che si stendevano ai due lati della stanza, occhieggiavano degli orribili ceffi. Di cavalli, gli animali con le corna o dalle lunghe orecchie, e un muso grosso, enorme, con la coda al posto del naso e due lunghi ossi spolpati che gli sbucavano fuori dalla bocca. Il gatto si mise a miagolare con voce roca, proprio sotto le zampe di zietta, ma in quel momento la pelliccia si aprì. Il padrone disse «Hop!» E zietta e Fiodor Timofiace saltarono a terra. Si trovavano ormai in una piccola stanza, dalle rozze pareti di tavole. All'infuori di un tavolino con lo specchio, uno sgabello e dei cenci appesi agli angoli, non c'era nessun altro mobile, e al posto della lampada o della candela ardeva una viva fiammella a ventaglio, che usciva da un tubetto infilato nel muro. Fiodor Timofiace si leccò il pelo che zietta gli aveva gualcito, andò sotto lo sgabello e vi si sdraiò. Il padrone, che continuava ad agitarsi e a strobricciarsi le mani, cominciò a spogliarsi. Si spogliò, come di solito si spogliava a casa sua, quando si accingeva a coricarsi sotto la coperta di lana, cioè si tolse tutto all'infuori della biancheria. Poi si sedette sullo sgabello e guardandosi allo specchio, cominciò a fare su di sé delle cose stupefacenti. Prima di tutto si mise in testa una parrucca con la scriminatura in mezzo, e ai lati due ciuffi simili a corna. Poi si impiastricciò tutto il viso con qualcosa di bianco, e sopra ci disegnò un paio di sopracciglia, baffi e pomelli. Ma le sue operazioni non finirono lì. Dopo essersi imbrattato viso e collo, cominciò ad indossare un costume straordinario fuori del comune, come zietta non ne aveva mai visti prima, né in casa né per strada. Figuratevi dei pantaloni lunghissimi, di indiana a grossi fiori, come quella che si usa nelle case dei piccolo borghesi per le tende o per foderare i mobili. Dei pantaloni che si abbottonavano sotto le ascelle. Una gamba era di indiana marrone, l'altra di un giallo vistoso. Dopo essersi infilato dentro quelle braghe, il padrone indossò un giubbetto, anche quello di indiana, con un gran collo di pizzo e una stella d'oro sulla schiena, delle calze multicolori e un paio di scarpe verdi. A zietta si annebbiarono la vista e la mente. Quella figura dal viso bianco, infagottata, aveva l'odore del padrone, anche la voce era quella ben nota del padrone. Ma c'erano dei momenti in cui zietta era torturata dal dubbio e le veniva voglia di fuggire lontano da quella figura avariopinta, di mettersi ad abbaiare. Il nuovo ambiente, la fiammella a ventaglio, l'odore, la metamorfosi avvenuta nel padrone, tutto questo le espirava un vago senso di paura. E il presentimento che sicuramente si sarebbe imbattuta in qualche essere orribile, sul tipo di quel grosso ceffo con la coda al posto del naso. E per di più, di là dalle pareti, lontano, suonava una musica detestabile e si udiva di tanto in tanto un incomprensibile boato. Una sola cosa la tranquillizzava, l'impassibilità di Fiodor Timofieich. Sonnecchiava Pacifico sotto lo scabello e non apriva gli occhi nemmeno quando lo scabello si muoveva. Un uomo, in fracche panciotto bianco, si affacciò nella stanzetta e disse — Ora entra in scena Miss Arabella. Dopo tocca a voi. Il padrone non rispose nulla. Trasse di sotto la tavola una piccola valigia. Si sedette e rimase in attesa. Dalle sue labbra e dalle sue mani si poteva indovinare che era agitato. E Zetta sentiva che aveva il respiro spezzato. — Monsieur Georges, favorite, gridò qualcuno dietro la porta. Il padrone si alzò, si segnò tre volte, poi tirò fuori il gatto da sotto lo scabello e lo ficcò nella valigia. — Vieni qui, Zietta, disse piano. Zietta, che continuava a non capirci nulla, si avvicinò alle sue mani. Lui le diede un bacio sulla testa e la pose a fianco di Fiodor Timofieich. Dopodiché calarono le tenebre. Zietta calpestava il gatto, grattava le pareti della valigia ed allo spavento non riusciva ad emettere alcun suono e la valigia dondolava come se si trovasse sulle onde e tremava tutta. — Eccomi! — gridò forte il padrone. — Eccomi! Zietta sentì che dopo questo grido la valigia urtava contro qualcosa di duro e smetteva di dondolare. Si udì un boato alto, poderoso. Avevano applaudito qualcuno e quel qualcuno, probabilmente il grosso ceffo con la coda al posto del naso, ruggiva e schignazzava così forte da far vibrare le serrature della valigia. La risposta al boato è cheggiò la risata acuta e stridula del padrone, una risata completamente diversa da quelle che faceva di solito. — Ah! — gridava cercando di superare quel boato con la voce. — Rispettabile pubblico! Arrivò proprio in questo momento dalla stazione. Mia nonna è crepata e mi ha lasciato un'eredità. Nella valigia c'è qualcosa di molto pesante. Deve essere dell'oro. — Ah! E se ci fosse dentro un milioncino? Adesso apro e vediamo. La serratura della valigia ci golò. Una luce vivida ferì gli occhi di Zietta e salto fuori dalla valigia estordita dal boato. Si mise a correre all'impazzata attorno al suo padrone, abbandonandosi a squillanti latrati. — Ah! — gridò il padrone. — Lo zietto Fiodor Timofeiz! La cara ziettina! Cari parenti! Che il diavolo vi porti! Si lasciò cadere a pancia sotto sulla sabbia, afferrò il gatto e Zietta e si mise ad abbracciarli. Zietta, mentre egli la stringeva tra le sue braccia, diede un rapido sguardo al mondo in cui l'aveva trasportata il destino e colpita dalla sua grandiosità, rimase per un attimo impietrita dalla meraviglia e dall'entusiasmo. Poi si sottrasse all'abbraccio del padrone e per l'intensità di tutte quelle sensazioni si mise a girare su se stessa come una trottola. Il nuovo mondo era immenso e pieno di luci abbaglianti. Da qualunque parte guardasse, soprattutto dal pavimento fino al soffitto, si vedevano soltanto facce, facce, facce e nient'altro. Ziettina, vi prego di mettervi a sedere, gridò il padrone. Ricordandosi del significato di queste parole, Zietta saltò su una sedia e vi sedette. Poi osservò il padrone. I suoi occhi, come sempre, avevano un'espressione seria e carezzevole, ma il viso e in particolar modo la bocca e i denti erano deformati da un largo sorriso immobile. Rideva, saltava, si stringeva nelle spalle e faceva mostra di essere molto allegro in presenza di quelle migliaia di facce. Zietta credette alla sua allegria. All'improvviso avvertì su tutto il suo corpo lo sguardo di quelle migliaia di facce. Levò in alto il suo muso volpino e si mise a durulare di gioia. Voi, Zietta, restate lì, seduta, le disse il padrone. Io e lo zio intanto balleremo la camarinscaia. Fyodor Timofievich, aspettando il momento in cui gli sarebbe toccato fare delle sciocchezze, stava lì e si guardava attorno, indifferente. Ballò fiacamente, svogliato e di malumore e dai suoi movimenti, dalla coda e dai baffi, si vedeva che disprezzava profondamente la folla, la vivida luce al padrone e se stesso. Portato a termine, il suo numero sbadigliò e si sedette. Davanti, Ziettina, disse il padrone. Ora, per cominciare, canteremo insieme e poi balleremo. Sta bene? Tirò fuori dalla tasca un piccolo flauto e si mise a suonare. Zietta, che non poteva soffrire la musica, si agitò inquieta sulla sedia e cominciò ad abbaiare. Da tutte le parti eccheggiarono urla ed applausi. Il padrone fece un inchino e quando tutto tacque, riprese a suonare. Mentre eseguiva una nota acutissima da chissà dove in alto tra il pubblico, qualcuno lanciò un'esclamazione a voce alta. Babbo, gridò una voce infantile, ma quella è Castanca. È proprio Castanca, confermò una voce tenorile malferma da ubriaco. Castanca, fediusca, che Dio mi punisca. Ma quella è Castanca? Ehi! Qualcuno in galleria fischiò e due voci, una infantile e l'altra adulta, chiamarono forte «Castanca! Castanca!» Zietta sussultò e guardò in alto da dove era partito il grido. Due facce, l'una pelosa, ubriaca, sorridente, l'altra paffuta, rosa e spaventata, le colpirono gli occhi, proprio come qualche minuto prima gli aveva colpiti la luce vivida. La cagnetta ricordò, si precipitò giù dalla sedia e affondò nella sabbia, poi balzò in piedi e con un grido di gioia si slanciò verso quelle fazze. Si alzò un boato assordante, rotto da fischi e da acute grida infantili. «Castanca! Castanca!» Zietta scavalcò con un salto la barriera, poi le spalle di qualcuno e si trovò in un palco. Per arrivare alla fila seguente bisognava scavalcare un alto muro. Zietta spiccò un salto, ma non superò l'ostacolo e scivolò indietro, lungo la parete. Poi passò da una mano all'altra, le comani e facce di chissà chi, salì sempre più in alto e finalmente riuscì ad arrivare alla galleria. Mezz'ora dopo Castanca era già per strada e camminava dietro a persone che odoravano di colla e di vernice. Luca Alexandrovic traballava e ormai ammaestrato dall'esperienza cercava istintivamente di tenersi lontano dal fosso. L'anima mia sprofonda nell'abisso dei miei peccati andava borbottando, ma tu Castanca sei proprio uno strano tipo. Di fronte all'uomo sei esattamente lo stesso che un carpentiere di fronte a un falegname. Al suo fianco camminava Fidiusca col berretto del padre, che Stanca osservava le due schiene e le pareva di camminare già da un pezzo dietro di loro e si rallegrava che la sua vita non si fosse interrotta neppure per un minuto. ricordava la stanza dalla tappezzeria sudicia, l'oca, fiodo al timofieic, i pranzi succulenti, gli esercizi, il circo, ma tutto questo le sembrava un lungo sogno, confuso e penoso.